amici del baule dei sogni i miei angioletti i miei angeli ciao a tutti perché mi presento con la pannella perché questa è la pannella di martina che dopo 50 anni a causa della quarantena ha cominciato a cucinare e addirittura si è fatta fare la pannella vedete martina la regina della cucina l'altra sera mi ha detto stasera ti fai pulenta e guarda che pulenta è difficile dico fa una cosa comincia con la pasta in bianco non hai cucinato mai non ho notato è fuo pulenta ha fatto la pulenta di quando gli è venuta l'ora ci muoge sulle creme di terremoto detto cazzo ciao